Torna! Conte! Torna! Conte! Schattel! Richiesta approvata. I rinforzi sono stati lanciati. I'll try to get the sample, just call the shuttle No porco, questo è morto il fa No porco Dieci minuti alla fine della missione Richiesta approvata, dispiegamento rinforzi Somministriamo libertà Alla fine No, 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 no. Distrazione disponibile. Supporto aereo. Inviate un eagle. Arriva la cavalleria. Eagle One, torno al destroyer per rifornimento. Raggio di rifornimento. Vi chiedo armi avanzate. Vi chiedo armi avanzate. Vi chiedo armi avanzate. La rinforzione si è mosso. Pezzo di merda. Ricarico! Oh, yeah, mamma mia, sono tanti. Ricarico! Ricarico! Vi chiedo un'estrazione. Vieni. Salto di estrazione in arrivo. Vieni sul porto aereo. Run, 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 run. Arriva la cavalleria. è morto chiedo dei rinforzi freccia degli insetti due minuti all'arrivo avanti un minuto e trenta secondi all'arrivo chiedo supporto aereo consegna del carico mangiate cazzi mangiate cazzi un minuto al ritorno a destroyer per rifornimento lancio granata 30 secondi all'arrivo mamma mia lancio granata 10 secondi all'arrivo liberare l'area bellican one in arriva le coordinate qui bellican one preparazione all'atterraggio per la democrazia controlla rovescia iniziato estrazione completa bellican one inizia la risalita oggi hai compiuto un altro passo nella lunga scalata verso la libertà nuova età è il dive crashato manco il piacere dio ci sta crashando manco il piacere darmi il punteggio però ragazzi penso di aver fatto bello no? ok è stato abbastanza impegnativo rimanere in vita peccato del crash alla fine però ci avrà dato i punti mi spiace non aver potuto fare complimenti non fin sembra la cazzo non è stato proprio facile a Lirian non so perché quei due si hanno andati via alla fine ci hanno mai lasciato questa ragazza che poverina è morta perché poi capisco pure che verso la fine se si muore si rimane senza agribaggiamento quando queste cose ti saltano addosso di quella non riesco a descrivere meglio che come fare il torero alla fine con tutti questi che ti caricano devi stare molto attento perché basta che mezzo errore in due niente quindi vabbè comunque dai ciao